Ragazzi, io penso che un punto così basso nella mia vita io non l'abbia mai raggiunto, o comunque poche volte ho raggiunto una vergogna così tanto grande nel fare un video. Però sono qua, letteralmente seduto in terra, in bagno. È la notte di Halloween, ok? Mi sto asciugando con il phon perché ho preso l'acqua, il mio giacchetto dov'è? Lì è tutto bagnato, ma adesso mi stavo asciugando un attimo i capelli e un po' la veste, la tunica dell'ancella perché mi sono travestito d'ancella. Ma questa è la storia del perché io ho lasciato la serata a metà con i miei amici in discoteca e sono tornato a casa in bicicletta. Sotto il diluvio, che di norma lo faccio anche normale, normalmente, ma la serata era a Milano Sud, molto Sud. Io abito a Milano Nord, quindi mi sono fatto non so quanti chilometri sotto l'acqua, pur di non rimanere più lì, ok? E il motivo è una vergogna assurda per me, dirvelo. Però ero qui che stavo rimuginando, rimuginavo, mi rimuginavo, mi asciugavo e mi rimuginavo. Dicevo, no, no, io mi devo sfogare. Quindi voi sapete che quando mi succede qualcosa di abbastanza grave, grave, tra virgolette, per quanto riguarda la mia vita, voi siete sempre una mano dal cielo, ok? Quindi mi scuso un attimino per le luci che non ci sono, l'inquadratura che ballerà un po', perché vi ho in mano, ma tra un po' vi appoggerò da qualche parte. E benvenuti in questa specie di story time in live, non programmato, in cui vi racconto il come mai io mi ritrovo alle quattro e mezzo di notte, da solo, nel mio bagno, in terra sul pavimento, bagnato fradiscio, così. Ok. State pronti perché io poi vi appoggio un attimo qui, voi raccontatemi poi qua sotto tramite commento se è normale una cosa del genere. Allora. Non so nemmeno quanto durerà online questo video, perché probabilmente poi in realtà lo voglio registrare per poi far ricordare al me del futuro di non rifare più cose del genere, però so già che poi quando lo caricherò e lo monterò e lo pubblicherò mi pentirò amaramente della scelta che ho fatto. Però, se c'è qualche disgrazia su cui monetizzare, monetizziamo. Ormai ho imparato che il dolore causato da determinate situazioni viene un po' ricompensato dalla monetizzazione, così possiamo andarci a comprare qualcosa. Perché qui è assurdo. Io ci ridò. Non sono ubriaco, giuro. Ho bevuto solo una Coca-Cola zero in discoteca perché semplicemente abbiamo fatto serata anche ieri. E quindi è successo anche lì un po' al finimondo che diciamo che è stato l'inizio di tutto, ma non ho molta voglia di raccontarvi, ma intanto capirete tutto. Come ben sapete, nel mese di ottobre, che ormai è finito, io vi ho detto più e più volte che diciamo che sul lato, diciamo, amoroso stava andando abbastanza bene. Il stava andando abbastanza bene intendeva, voleva essere un, sì, sto frequentando un qualcuno, sto conoscendo qualcuno, mi piace qualcuno. I più attenti di voi, adesso che ve lo racconterò, scopriranno che è il ragazzo numero uno di un vlog passato quando vi avevo detto che non sapevo chi scegliere, un po' per gioco, però poi il destino ha voluto che ci si avvicinasse ed era il bravo ragazzo, ok? Non vi sto a raccontare varie cose, però comunque la conoscenza stava andando bene. Stava andando bene fino a quando non abbiamo deciso, tra virgolette forse ho sbagliato io o forse ho capito male io, però io mi ricordo di aver fatto proprio questa domanda ma cosa siamo, cosa stiamo facendo, posso uscire con altri, posso vedere altri, queste robe qui, e mi è stato risposto no, concentriamoci su noi due, usciamo in esclusiva e quindi penso che a questo punto penso di aver capito bene in realtà perché se mi dici questa cosa e io ti dico questa cosa, boh, in italiano si capisce solo una cosa, nel senso io esco con te, basta, poi che finisca domani, che continui e ci sposiamo, è un altro conto, però se mi dici, sì, usciamo in esclusiva, con nessun altro deve esistere, cioè non dobbiamo uscire con nessun altro, io capisco questo, insomma, vabbè. evidentemente ho sbagliato, perché, boh, io sono una persona strana, lo sapete, sono un caso umano, sono un po' psycho, ho mille paranoie, mille problemi, però questa volta, come il casting di Mediaset, ho appena paragonato un ragazzo ad un casting, rendetevi conto, cioè non l'avevo presa con tutte le ansie del caso, io vi ho abituato sempre che conoscevo qualcuno, dovevo fare qualcosa di importante, mi prendeva l'ansia, e quindi alla fin fine rovinavo sempre tutto, questa volta l'avevo presa come una cosa molto sciallosa, come per dire, vabbè, andiamo, sta andando bene, non ci facciamo paranoie, non ci facciamo film mentali, viviamo, no? Viviamo il momento, quello che sarà, sarà, ed è per questo che probabilmente ne sto parlando così, in realtà io dentro adesso sto morendo, raga, perché in poche parole, non lo so, tre giorni fa, tipo quattro giorni fa massimo, abbiamo ufficializzato, nel senso di chiuso la coppia, se così vogliamo chiamarla, la cosa, e evidentemente avevo capito male io, perché sia ieri che stansera, posso dire che mi sono state fatte le corna proprio sotto il naso, l'ho detto, è quello, vabbè, evidentemente avevo capito male io, non capisco cosa è successo, ma almeno ha avuto la decenza di nascondersi, poi, vabbè, lascia perdere che comunque, se dici a una mia amica che è lì, vado a cercare Cristiano, e io poi arrivo, e non ti trovo, e dico alla mia amica, ma dov'è, e mi dice, è a cercarti, io è ovvio che se taccio tutta la discoteca per venirti a cercare, per dirti, ehi, smettila di cercarmi, sono qui, evidentemente mi stava cercando dentro la bocca di un altro, perché sono rimasto tipo un attimino spiazzato, era una cosa un po' così, è stata impensabile, boh, non pensavo, boh, avevo capito male evidentemente, ma mi sono piaciuto molto, perché questa volta, invece di fare molte piazzate, sono andato lì tranquillamente, non ho interrotto nulla raga, sono stato anche educato, fatto sta che mi ha visto, che l'avevo visto, quindi si è staccato lui, da quel tizio, e sono andato lì, mi sono avvicinato, gli ho messo la mano sulla spalla, ho detto, guarda, continua pure, tanto ho capito, e poi mi sono girato, e sono andato via. Ora, se te stai uscendo con me, o con qualunque altra persona, uno ti viene a dire questa roba, ti becca proprio il fragrante, di reato, si dice fragrante, o fragranza, vabbè, sì, la fragranza, o de toilette, il posto proprio così, vabbè, comunque gli corri dietro, o comunque dai un minimo di spiegazione, ti arrampichi un po' sugli specchi, questa volta non c'è stato nemmeno l'impegno, no, come per dire, ah, ma forse hai visto male, sei un po' ubriaco, no, che magari ci potevo anche capire, perché effettivamente, ieri avevo bevuto un po' tanto, però, vabbè, ahimè, è andata così, poi, vabbè, ho scoperto anche altre cose, che mi erano state nascoste, vabbè, lì, ok, tutto tranquillo, fatto sta che poi oggi, mi è arrivato un messaggio, che ho scritto, guarda, stasera, ne parliamo, no, io non ho risposto, ovviamente, però, nel senso, siamo insieme, te sai che io so, io non ti ho da dire niente, non ti parlo, dovresti aver premura di chiarire la situazione, c'è una persona normale, dovrebbe dire, aspetta Cristiano, prima di tornare ad evitarmi per sempre, ti dico le mie motivazioni, almeno funziona così, ora, è vero che vestito da ancella, mi sembrava una cosa un po' assurda, io già mi immaginavo in un divanetto nella discoteca, vestito da ancella, a parlare di queste cose, credibilità proprio zero, però, invece, non c'è stato nulla di tutto questo, anzi, ma anzi, è tornato il tizio di ieri, e quindi, tutto è bene quel che finisce bene, ma sì, ieri, che finisce bene, e quindi ho fatto, vabbè, nel senso, quante probabilità c'erano, in tutto il mondo, di rivedere la stessa persona, che a regola non conoscevi, hai incontrato ieri, oggi, vuol dire che comunque c'è stato qualche messaggio, comunque vi siete scambiati qualcosa, oltre che i liquidi della bocca, ma va benissimo, fatto sta che appunto, sono venuto via, stasera, da questa discoteca, uno, perché la serata era un attimino flop, due, perché sinceramente, non mi andava di vedere questo spettacolo, per tutta la sera, tre, non mi andava nemmeno a, evitare una persona, tutta la sera, soprattutto vedendolo, poi, fare cose, che, vabbè, non con me, insomma, e, e quindi ho salutato tutti i miei amici, ho detto, vabbè, guarda, non vi preoccupate, sono un po' stanco, ho già fatto la serata così, vado via, tanto c'è, ci sono i taxi, c'è Uber, al massimo, torno a casa, insomma, esco, dalla discoteca, vado, dove si prende i taxi, e, solo che c'era tantissima gente, quindi ho detto, vabbè, chiamo dall'app, lo prenoto dall'app, e guardo, fatto sta che, non c'erano, non c'erano, io non lo so, a Milano, così, la notte, i taxi spariscano, allora, apro l'app di Uber, apro l'app di Uber, e, mi arriva il primo Uber, a parte che costava 33 euro, ho detto, vabbè, ma pur di levarmi di qui, io, pago qualsiasi cifra, avrei pagato anche 100 euro, non me ne interesserava, volevo tornare a casa, e, e lì non pioveva comunque, a, a quell'orario, e, mi accetta, solo che aveva, un'altra corsa, prima della mia, quindi io ho visto tutto il tragitto, che ha fatto, per quest'altra corsa, quando poi ha lasciato questa persona, mi ha annullato la corsa, lasciandomi lì, ho detto, vabbè, ho aspettato 15 minuti per nulla, ne richiamo un altro, ne richiamo un altro, mi riaccetta, e poi mi riannulla la corsa, e poi spariti, neanche un Uber disponibile, tant'è che ormai, era mezz'ora che ero rimasto fuori, no? E ho detto, ma non so quando finisce la serata, ma se i miei amici, escono, perché è finita la serata, e mi trovano ancora lì, mi dicono, Cristian, ma che stai a fa? Nel senso, tanto valeva rimanere lì, e siccome io non volevo dirgli il vero motivo, perché, cioè, non ci voglio passare come quello, sempre sfigato, in amore, tutto quanto, dupalle, sono, mi sono annoiato di, di queste cose, basta, ma, e infatti, cioè, questo è uno story time, proprio così, perché in realtà non è uno story time, ma, voi vi lamentate che io non vi faccio più story time, io non vi faccio più story time, semplicemente perché, mi sono annoiato, che ogni volta io vi devo parlare, che conosco qualcuno, e poi per un motivo, o per l'altro, per colpa mia, per colpa sua, per colpa, perché siamo inconciliabili, inconcepibili, inconciliabili, ma vabbè, quello lì, insomma, quello che è, e, e quindi poi finisce sempre male, ok? Quindi, semplicemente per quello, però, stasera è una cosa troppo, perché, siccome, appunto, taxi non ce n'erano, Uber, mi annullavano le corse, ho detto, vabbè, facciamo che mi prendo, una bicicletta, quella che leggio con l'app, arrivo fino a Porta Venezia, poi a Porta Venezia, c'è la stazione dei taxi, lì di solito, a regola, i taxi ci sono, un po' di più, rispetto a dove ero lì, che era tipo Milano Sud, l'ho già detto. Allora, prendo questa bicicletta, a parte, il fatto raghi, in gonna, perché questa è una gonna, senza pantaloni sotto, perché ho degli shorts cortissimi, mi vola ovunque, quindi gamba all'aria, o sì, fischi, mi ferma uno che mi dice, oh, scusa, scusa, ma parli italiano? e io gli faccio, no, 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 e scappo, tutto un po', una paura assurda, ma dopo un minuto, che sto lì, a biciclettare, diciamo, a pedalare, inizia a piovere, ma non è che pioveva po', pioveva forte, quindi ho detto, oh, bene, come finire in bellezza, questa super serata, di merda, ragazzi, però ho detto, no, non mi fermo, continuo sotto la pioggia, perché devo pulirmi la coscienza, di questa vergogna, che provo ogni volta, perché non mi devo vergognare, se mi vanno male le cose, perché effettivamente, non è colpa mia, ok, soprattutto anche questa volta, ma cosa vuoi, cosa c'entra, ahhh, sono fuori di cervello, fatto sta che arrivo a un portaverezza, ho detto, vabbè, ormai ci sono, continuo, e ho fatto tutto, tutto in bicicletta, ci ho messo tipo 40 minuti, in bicicletta, per venire a casa, e, e sono arrivato qui, capite, perché, mh, il titolo di questo video, perché, mh, ho fatto, questa roba, domani, sicuramente, mi ammalerò, mh, però sì, diciamo che, è andata male anche così, nel senso, anche quelli che dicono, di essere bravi, di essere angelici, di essere innocenti, di volere cose così, a caso, sono peggio dell'altro, vabbè, lasciamo perdere, ai ai ragazzi, ma io, cosa ci devo fare, ma vedete, ma devo, ma basta, non devo smettila, con queste robe, così, io devo pensare, solo a fare i video, mi lavora, spende sordi, io sto con gli amici, basta, queste robe, non ho più voglia, ma zero proprio, ma più che altro, perché, non mi posso rovinare, le serate in questo modo, o raga, cioè, perché alla fin fine, ok, cioè, ero anche un po' pronto, in realtà, perché tanto ormai tutti, fanno così, e quindi ho fatto, boh, però questa volta, stavo andando bene, ma non stavo dicendo, neanche nulla su YouTube, ero proprio superstizioso, avevo solo detto, ah sì, c'è qualcuno, così, ho detto, ma, chissà, cosa, perché me lo merito questo, eh, perché me lo merito, perché il karma, mi sta ancora facendo pagare, le osse che ho fatto in passato, ragazzi, ve lo dico io, ma, è una cosa assurda, è abominevole questo fatto, che non si riesca a trovare qualcuno, ma non serio, perché comunque, non eravamo fidanzati, cioè, io non pretendo di essere fidanzato, però, se ti frequenti con qualcuno, inizi a conoscere qualcuno, io, allora, posso essere magari, bacchettone da una parte, o magari medievale dall'altra, ma io pretendo solo sincerità, ok? Io, è dall'inizio della conoscenza, anzi, lo dico proprio a tutti, quando ci conosciamo, faccio, senti, sincerità, subito, nel senso, si fa pem pem, si fa pem pem, e chi se ne frega, si fa pem pem, e poi succede qualcos'altro, e si fa pem pem, e succede qualcos'altro, vuoi, stai uscendo anche con altri, dimmelo, cioè, io basta che le so le cose, perché così, almeno mi preparo, nel senso, se io inizio a conoscere te, che mi vedi, che mi stai guardando adesso, in questo momento, e fin da subito, si dice, guarda, iniziamo a far pem pem, e poi no, ognuno fa la propria vita, io lo so già, quindi sono preparato, poi, se mi innamoro, se mi garbio, sono affari miei, però, almeno, sono pronto, non che mi devi venire a dire, no, perché io, sono serio, io, uno, alla volta, io voglio quello, io voglio quest'altro, e tutto quanto, e poi invece, me le fai di nascosto, perché la gente, non è sincera, me lo spiegate, cioè, sono veramente l'unico, che è sincero, io non ci voglio credere, perché è una cosa assurda, vabbè, comunque, devo iniziare anch'io a fare così, ma avevo iniziato, e poi però, e ci casco sempre, cioè, io dico sempre, faccio lo scemo, faccio lo stronzo, faccio lo stupido, faccio un po' la, la meritrice, diciamo così, poi però, se iniziò a uscire con qualcuno, e mi garba, io sono di fuori, sono stupido, e così, però, io ogni tanto sono qui, che sto parlando da solo, on the floor, in the bathroom, e questo starà, facendo, limoni, e arance, e pompelmi, ok, che bello ragazzi, vedete, quando mi dite, chissà, che bellissimo amico, che sei, chissà com'è bello, essere tuo amico, no, vedete, essere mio amico, significa, sorbissi queste cose, e quindi, per la proprietà commutativa, voi ve le sorbite uguale, quindi, effettivamente, potete considerarvi, anche amici miei, però, insomma, non lo so, ditemi voi, io spero che voi comunque, abbiate passato un Halloween, un po' più bellino di questo, del mio, e fatemi sapere quello che volete, io finisco questo video, un po' così, un po' fatto alla cavolo di cane, zero professional, mille, ma molto veritiero, e molto sincero, soprattutto, volevo solo esprimervi, il mio punto di vista, i miei pensieri, di questo momento, e, la mia vergogna, ok, mamma che viso, basta, io non sono fatto per queste cose, non sono fatto per questo mondo, non sono fatto per questi giochetti, ormai, oh, non ho più voglia di giocare a queste robe, ma non mi scrivi, ti scrivo io, no, io aspetto due ore di ridilla, basta, io blocco, basta, non parlo più, non ti caco, non ti considero, e poi verrai a piangere, affari tua, ognuno è artefice del proprio destino, ami, e, ci vediamo domani, domani, il video sarà un po' più carino, perché l'ho già preparato, tipo, ieri l'altro, nel mukbang, e dove vi parlo finalmente, del programma televisivo, quindi parliamo di cose, carine e simpatiche, posso dire solo una cosa, ahimè, ti sei perso, una bellissima occasione, perché, come me, non li trovi, e sì, so che starete pensando, ah, meno male, perché è psycho come te, ok, ma, oltre il lato psycho, c'è anche tutto il resto, e sono cose belle, veramente, e queste cose, le ho capite non per alun, perché, c'è qualcun altro che me lo dice, ma perché, le ho capite finalmente, so quanto valgo, e so, quando, non devo mettermi dentro, situazioni tossiche, finalmente, come si suol dire, meglio ora che dopo, insomma, vabbè, continuo un attimino, a sfonarmi, e poi, vado a letto, insomma, ciao, è stato un piacere, questo story time, sarà bellissimo,